In Sud America pare abbiano trovato un metodo efficace al 100% per rubare le automobili senza recare danno e g con la messa in moto. L'intuizione latina consisterebbe nel servirsi di una bottiglia in plastica per avviare il furto. Come, un video su YouTube lo spiega passo per passo rumori strani la prima visaglia di qualcosa che non va come dovrebbe e viene data da un rumore strano e molesto che proviene dai vostri pneumatici. Il rumore prodotto è causato da una bottiglia di plastica incastrata tra l'auto e la ruota. Una volta sentito il rumore, l'automobilista è istintivamente portato ad uscire immediatamente dall'auto per controllare la si attuazione, magari lasciando anche l'auto in moto. Ed è proprio in quel momento che i ladri entrano in azione. Una volta sceso dall'auto il conducente. Il ladro di auto entra nel mezzo e fugge via. Lasciando il proprietario dell'autovettura a piedi e con una bottiglia di plastica tra le mani. Questo metodo g'è diventato popolarissimo in tutto il mondo e sembra sia diventato davvero un pericolo per tutti gli automobilisti. Secondo gli inquirenti, qualora si avverta un rumore strano, particolare partire della propria auto, non si deve in alcun modo scendere dall'auto. Ma bisogna allontanarsi prima possibile dal luogo. Nel caso in cui si propende EPR scender comunque dall'auto. Bisogna assicurarsi che sia chiusa a chiave e in caso di necessit chiedere aiuto ai passanti. Sempre nel caso il piano dei ladri non sia proprio quello. L'evoluzione dei furti d'auto. Il metodo spiegato nel paragrafo precedente solo uno dei recenti metodi. Ed anche piuttosto basico e semplice. Negli ultimi tempi. Per uno dei metodi pi gettonati per il furto d'auto sicuramente il modello high-tech. Con l'avanzare della tecnologia e con lo sviluppo delle auto. Sembra diventato molto più semplice rubare un'auto e rubarla senza comprometterla in alcun modo. Bottiglia basta infatti avvicinarsi con un dispositivo tecnologico all'auto in questione che modificherà la natura della chiave elettronica e permettere al ladro di entrare senza problemi nell'auto e di rubarla. Ovviamente, questa operazione compatibile con le auto che sono sul mercato da pochissimo massimo 5 anni. Essendo queste auto controllate da un sistema elettronico che come tale può essere a Caratos. Questo sistema per il furto d'auto possibile grazie all'utilizzo di un piccolo marchigegno elettronico che va da 10 a 50.000 euro. Si tratta di prodotti che possono provenire anche dai mercati low-cost e che permettono un furto nel giro di 15 e anche da parte dei più esperti. Secondo le statistiche, un'auto tecnologica, inviolabile solo per le prime due settimane altro su MSN. Il ladro d'auto messo coda al lottatore di arti marziali. Corriere TV, sponsorizzato, offerta tablet e PC 2 in 1. Surface Pro M3 e più tastiera a soli 749. Acquista maggiore maggiore.